Il percorso inizia con il pre-recovero, che avviene 3-4 settimane prima dell'intervento, nel quale vengono eseguite le seguenti procedure. Esami ematici, radiografici, valutazione anestesiologica e colloquio informativo con l'infermiera di reparto. In tale sede dovrete presentare tutta la documentazione in vostro possesso inerente all'intervento e la vostra situazione clinica, i farmaci che assumete, segnalando eventuali allergie o intolleranze a farmaci, alimenti o metalli. Verrete informati sul tipo di anestesia a cui sarete sottoposti e sul trattamento di tipo igienico che dovrete effettuare al vostro domicilio in preparazione all'intervento.